I tempi che furono, ma ancora adesso c'è qualcuno, un popolino, colui che c'è in grecia, porta a pascalare le pecore, e questo signore qua, alla fine, stava più tempo con le pecore che con la madre, è arrivato un momento che non si capisce, quella moglie che era la piccola, ma ora ha bruciato i cassaroni, se non prendeva neanche, prendeva la moglie per la pecore, le pecore per la madre, e così, ho riconosciuto, ho preparato. Ho preparato. Ho preparato. Ho preparato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.